Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video. Allora, mi è stato richiesto nei commenti da Brema, che ringrazio per il sostegno e ringrazio per la sua presenza sempre nei commenti, un video dedicato alla fase 19. Era da un po' che ci stavo pensando, visto che per molti giocatori è una fase cruciale, è una fase particolarmente rognosa, difficile, è più difficile del Ragno 20, perché quando gli sviluppatori rilasciano un campione per Ragno, uno specialista del Ragno, pensano sempre al Ragno 20, insomma, quindi alla fase finale, come scopo di utilizzo. Ed essendo il Ragno 20 verde, la maggior parte dei campioni pensati appunto per fare bene contro il Ragno sono blu, generalmente, e quindi non possono essere utilizzati con soddisfazione nella fase 19 che invece è rossa. Questo è un problema, perché per esempio Guardia Reale è blu, Guardia Reale è blu, non la potrà utilizzare. Un altro campione stupendo contro il Ragno 20, o il Ragno in generale, è Tyrell, ma è blu anche lui, quindi non ridurrà il contatore di turno con la prima skill, non metterà riduci difesa ad area con la sua seconda skill, insomma, non può lavorare bene. Un altro campione, altri campioni sono quelli che mettono bruciaccappi ad area, come abbiamo visto da poco, Galek Supremo è blu, non brucerà nessuno, o molto molto poco, insomma. Ma anche cabini leggendari come Ixlimor, che è stupendo per bruciare, in questa fase non va bene. La stessa cosa, dicasi, per Ignatius, che anche lui brucia la grande, ma non va bene. Quindi, insomma, capite che la maggior parte delle carte da giocare, che si possono utilizzare normalmente per far fuori il Ragno, contro la fase 19, purtroppo non si possono utilizzare. In questo caso, l'MVP assoluto, a mani basse, più semplice da trovare, torna ad essere cuore glaciale, mettete lei, insieme a qualcuno che riduce la difesa, mette in debolimento, insomma, vi permette di fare più danno, e un tank, e avete vinto. Ci sono anche altri campioni che possono fare questo, e vanno bene per la fase 19. e mi viene in mente Ask, mi viene in mente Ask, campione estremamente sottostimato, perché con la sua seconda skill avrà un 60% di probabilità di stordire, e in più fa anche un danno proporzionato agli HP massimi. Il suo danno è paragonabile a quello di Armigero, quindi sui 6-700.000 immagino, una volta che gli avrebbe dato un bel po' di danno decisivo, però insieme lui stordisce. E questa è una cosa stupenda, perché nella stessa skill avete sia il controllo che il danno. Se ne avete due potete portarne tranquillamente due, è un campione che vi tornerà sicuramente strautile anche in cripta, quindi non è uno spreco farlo. È un peccato, tra virgolette, che sia rosso, se fosse stato verde sarebbe stato stupendo, perché andava bene sia per la fase 19 che per la fase 20. Non è così, non è così, purtroppo è rosso, quindi si può utilizzare bene solo in fase 19, però è un signor campione che può sostituire le Core Glaciale, ecco, quindi bene Ask. Un altro campione stupendo per questa fase, per chi ce l'ha, è Venere, perché lei è Viola. Viola con la sua seconda skill brucia, con un 75% di possibilità, lo può fare ogni 4 turni per 2 turni, quindi grandioso. Ha la possibilità anche lei di mettere riduci difesa e indebolimento, quindi grandiosa. permetterà eventualmente ai nostri vari Armigeli e ai vostri vari Ask, appunto, di fare più danno, in modo da liquidare la fase con più facilità, quindi grandiosa anche lei. Poi, Septimus, che sta diventando il simpaticissimo ultracampione di tutta Teleria, è ovviamente per una questione di affinità idoneo anche per questa particolare fase. Ma i miei consigli, per quanto riguardano i campioni particolari, finiscono qui, per quanto possono esserci neanche tanti tanti altri. Idonei per questa particolare fase, per questo particolare livello del ragno, ho in mente di mostrarvi due team, uno estremamente convenzionale, direi quasi scontato, e uno veramente veramente molto esotico, con delle meccaniche di gioco che forse non sapevate neanche che esistessero. E quindi via con il primo team. Ecco qui il primo team, quello che se vogliamo potremmo definire convenzionale, basato appunto sui danni agli HP massimi dell'avversario, e quindi abbiamo un mostro che è del colore sbagliato, essendo lui blu, però comunque riesce a generare un bel po' di scudo, ha tanta vita, quindi riesce a incassare bene i colpi, si mette anche appunto lo scudo, come dicevamo, quindi ha tutte le caratteristiche, si cura da solo, si cura da solo uno dei pochi tank in grado di curarsi da solo, e quindi va benone, ce lo portiamo dietro con grande soddisfazione, Fane l'ho riscoperta, davvero la grande, è ottima, la vedrete in tanti video, perché mi sta risolvendo un sacco di guai, anche in questo caso, mette riduci difesa e indebolimento, ottimo, grandioso, le due, pur graciale neanche dirlo, si possono tranquillamente sostituire anche entrambe con armigero, volendo, la run durerà un pochettino di più, ma si vince senza problemi, e poi ho messo Opsiler, perché se no poi vi lamentate che con i mega leggendari si vince, se no no, no, in questo caso abbiamo messo l'epico, però buildato bene, costruito con un po' di testa, al posto di Nethril, perché in questo caso al posto suo avrei utilizzato Nethril, avendolo a disposizione, se prende un turno il boss è irrilevante, insomma, il mostro è in grado di incassare la stragrande senza nessun tipo di problema, e comunque in genere le due quadraciale o i due armigieli saranno pronti per schiantare con i loro skill, quindi non preoccupatevi, 1 minuto e 26, bene, andata, senza nessun problema, come al solito le due quadraciale MVP, ma questo si sapeva, come fare se non avete due campioni come loro, è pur sempre un raro, quindi più facile da trovare, ma non è così scontato, perché comunque è del vuoto, ho pensato ad un team leggermente esotico, ma che vi permette di vincere la fase 19, ma forse potenzialmente anche la fase 20, senza avere alcun tipo di campione che fa danni basati sugli HP massimi. Ed ecco quindi il secondo team che gli youtuber americani definirebbero Nish, di nicchia, insomma, ecco, alternativo, stravagante, quello che volete. Allora, riduciamo il contatore e un po' la velocità con Psylar, benissimo. Con Vizir facciamo la prima skill e poi vi spiegherò perché ci siamo portati dietro Vizir in questa particolare run. Stordiamo, si spera, qualcuno, due, vabbè, ma la cosa più importante in questo caso era generare un po' di scudo per mantenerci. Armigero me lo porto solo ed esclusivamente per la sua prima skill, non utilizzerò mai la seconda in questa particolare run. Adesso bruciamo il Ragnone e una volta che ho bruciato il Ragnone facciamo la prima con Psylar, ok? E adesso siamo pronti per utilizzare la terza skill di Vizir. Quindi applica un effetto spargi debuff prendendo due debuff a casa dall'obiettivo e piazzandoli su tutti i nemici. Che cosa c'è attualmente sul Ragnone? Riduci velocità, va bene, ma brucia HP. Quindi pronti per bruciare tutti i Ragnetti in un colpo solo. Ora diventa soltanto una questione di resistere. Aspettare che passi il tempo, tenere basso il contatore del Ragnone, far sì che i Ragnetti prendano turno, sperare che Mostro riesca a stare in piedi nonostante il mega danno che fanno i Ragnetti visto che comunque soltanto alcuni verranno storditi da Mostro e un numero forse ancora minore verrà stordito da Psylar, dipende da come le gira naturalmente. Comunque noi continuiamo a fare la sua skill primaria nella speranza che riesca a stordire quanta più gente possibile per mettere al nostro Mostro di campare alla grande. Ovviamente lo curiamo tutte le volte che è possibile farlo. Nel frattempo con il Miggio lo giù contatore. Si continua a stordire gente il più possibile, si spera. Adesso ancora un po' di gente prenderà turno. Con Vizir naturalmente l'unica cosa che dobbiamo fare è fare in modo che lui vada avanti con i suoi turni in modo da consumare, insomma da far calare ecco il contatore delle proprie skill e tenere la terza pronta per quando il prossimo turno sarà per quando sui Ragnetti non ci saranno più brucia HP a disposizione. Quindi avanti così. Allora adesso potremo ribruciare qualcuno tenete conto però che Vizir spargerà soltanto due debuff a caso e quindi se noi riutilizzassimo questa skill sul Regnone c'è la possibilità che i debuff sparsi siano in debolimento e riduci velocità e non in brucia HP che invece è quello che ci importa. Quindi la mia idea è tenete questa cosa da parte eventualmente per bruciare un ragno particolarmente pieno di vita lo stordimento non verrà mai sparso perché i debuff di controllo non possono essere sparsi da questa skill però vedete che ci sono eventualmente altri Ragnetti su cui è possibile spargere quelli su cui ci sono soltanto due debuff attivi come per esempio questo qui come per esempio questo visto che lo stordimento non verrà spalmato questo non andrebbe bene per esempio perché c'è Sanguisuga potremmo spargere Sanguisuga che non ci importa quindi per adesso avanti attacchiamo altranza il Ragnone vedete che intanto continuerà a perdere vita benissimo con Mostro non possiamo fare nient'altro che la sua prima skill continuiamo si spera a stordire qualcuno per quanto poco possa essere bene è giunto il momento di di spargere di nuovo però sto guardando se c'è qualche Ragnetto con almeno due turni di bruci HP no non è il momento giusto per farlo quindi avanti e aspettiamo nel frattempo Mostro un altro giro lo dovrebbe reggere mi lo auguro aspettiamo ancora un turno aspettiamo ancora un turno e ce la si dovrebbe fare nel frattempo il boss continua a calare di vita all'astra grande bene giù nel frattempo i ragnetti moriranno anche perché bruci HP ha un effetto devastante anche su di loro sembra di no ma anche loro hanno tanta vita essendo questo un danno basato sulla vita si rischia seriamente che muoiano quindi ma in realtà ce ne sono anche parecchi vivi perché ce n'è uno due tre quattro cinque quindi potremmo anche spargere adesso quindi spargiamo tac e di nuovo bruci HP su tutti quanti nel frattempo ci si cura o meglio si mette scudo insomma avanti a oltranza e adesso dovremo avere abbastanza bruci HP credo per portare a termine la partita in ogni caso comunque insomma vedete che Armigero e Psylar riescono a tenere il contatore di turno abbastanza basso per questa run contro il ragno 20 non basterebbe mai ma contro il ragno 19 è più che sufficiente quindi vedete adesso giù di nuovo il contatore e si guadagna ulteriore tempo intanto possiamo anche bruciare un ragnettone per esempio possiamo anche pomparlo eventualmente mentre aspettiamo che mentre aspettiamo appunto che la skill di Vizir si scarichi possiamo anche pompare i ragni in modo che accumulino turni di bruci HP perché Vizir ma qualsiasi campione che mette sparge debuff sparge il debuff con la quantità di debuff che c'era quindi in questo caso per esempio ci sono tre turni lui spargerà tre turni di bruci HP che è la cosa molto molto più importante ecco quindi non preoccupatevi per questo assolutamente adesso è soltanto appunto una questione di resistere altri due turni ma dovremmo farcelo alla grande potrebbe anche morire potrebbe tranquillamente morire il regnone anche prima anzi forse succederà proprio questo comunque ecco se n'è andato mi dispiace per lui poverino comunque sei minuti è chiaro il tempo è scandalosamente alto ma ribadisco l'abbiamo giocata in manuale ci abbiamo anche chiacchierato un po' l'unico obiettivo l'unico obiettivo era soltanto vincere perché vi ribadisco nessuna missione vi chiede di vincere in automatico il ragno 19 o qualsiasi altra roccaforte 19 in automatico per tot turni quindi dovete semplicemente superarla e poi occuparvi della fase 20 che come vi dicevo è molto molto più semplice rispetto alla fase 19 visto che tutti i campioni che sono stati pensati per affrontare il ragno sono particolarmente idoni per la 20 ma purtroppo non per la 19 per una questione di affinità detto questo come fare se non avete vizier perché è un leggendario che ovviamente non tutti possono avere attualmente ci sono solo tre campioni che io sappia in grado di avere questo effetto spargi debuff e sono vizier appunto che lo fa con la sua terza scherza come avete potuto vedere ha la possibilità di farla ogni quattro turni io ogni cinque perché io lo utilizzo nel team in ammazzabile non mi importa assolutamente niente che questa skill abbia tutti i tomi il mio ha i tomi solo ed esclusivamente sulla prima perché ho avuto un po' di fortuna e sono riuscito a mettergli soltanto sulla prima la terza non li ha e quindi ho dovuto aspettare un po' più tempo ma vedete che ce la si fa alla grande lo stesso appunto lui ha la possibilità di mettere spargi debuff con due debuff a caso insomma se voi fate in modo che i due debuff a caso siano brucia hp e qualcos'altro qualsiasi altra cosa insomma che i unici due debuff siano utili benissimo perché rispargerà proprio quelli la stessa cosa dovrebbe essere per beh perché mi sono spostato sempre il foscura è per zavia che lo fa con la sua terza quarta skill che però è disponibile solo quando c'è bella ecco questa cosa non l'avevo tenuta in considerazione quindi si potrebbe utilizzare solo ed esclusivamente avendo bella no ring squadra che potrebbe essere anche indicato per questa run probabilmente quindi è una limitazione quindi saliamo ulteriormente con la difficoltà forse era più facile avere visir probabilmente ma cosa di cui invece sono sicuro al 100% il nostro nuovo campione arc and grande lama è stata creata apposta per voi che avete difficoltà con la fase 19 e non avete appunto campioni come cuore glaciale in grado di liquidarla da sole con grande facilità quindi attacco nemico applica un effetto spargi debuff prendendo due debuff a caso dall'obiettivo e piazzandoli su tutti i nemici punto inoltre estende anche di due turni la durata di quei debuff molto molto buono non estenderà la durata dei debuff sull'obiettivo iniziale non ci importa perché il regnetto il regnone non deve prendere turni ma grazie a questa skill che è più potente ancora di quella di visir può farlo ogni 4 turni quindi si integra perfettamente con baluardo baluardo ma come qualsiasi altro campione che mette brucia hp a target singolo ce ne sono un sacco ma comunque baluardo probabilmente se hanno un raro è più facile da trovare sapete che la limitazione del brucia hp in base alla rarità si applica che io sappia solo ed esclusivamente al boss del clan quindi al boss del clan un brucia hp posizionato da un raro farà soltanto 50.000 di danno invece se un brucia hp posizionato da un epico da un leggendario farà 75.000 nel caso di un qualsiasi altro boss no perché fa il danno pari mi pare al 3% degli hp massimi quello è e sarà più grande in base agli hp massimi dell'avversario in questione quindi lei potrebbe essere sicuramente molto valida per fare questo particolarissimo tipo di run è una cosa che ovviamente funziona soltanto in manuale è una cosa che ovviamente funziona non nell'ottica di farmare insomma c'è un altro campione però che mi è venuto in mente adesso ovvero scarg l'anziano che ha questa particolarissima non questa questa sì particolarissima skill attacco nemico per tre volte piazza un colpo extra per ciascun buff o debuff sull'obiettivo può piazzare fino a tre colpi extra piazza un debuff brucia hp per due turni e un debuff strizza per un turno su tutti i nemici nel caso in cui questo attacco piazzi tutti e tre i colpi extra questa cosa funziona tranquillamente anche con il ragno 20 visto che lui semplicemente spargerà il brucia hp su tutti quanti pur che faccia tutti e tre tutti e sei colpi i primi tre iniziali più i secondi tre colpi extra e lo farà se ci sono più debuff sull'obiettivo quindi la cosa importante è che ci siano tre debuff potrebbe essere riduce velocità potrebbe essere un riduce difesa indebolimento il brucia hp che servirà bisogna che qualcuno metta brucia hp quindi comunque baluardo per esempio banalmente servirà anche in questo caso però ecco scarghe potrebbe essere davvero buono sia nella fase 19 ed eventualmente da sfruttare anche nella fase 20 poi in un team un po' particolare un po' esotico se vogliamo detto questo io non avrei altro da aggiungere spero di essere stato utile spero di avervi risolto o di avervi aiutato insomma a far fuori questa fase lasciate un messaggio se avete gradito e noi come al solito ci vediamo in un prossimo video mi raccomando mi piace ciao a tutti ciao a tutti